Scoppia la guerra del pesce, l'Europa dice no alla pesca strascico, l'Italia insorge. La Commissione europea punta a mettere al bando il metodo di pesca ritenuta pericolosa per l'ecosistema del mare, ma i marittimi chiedono un pool di esperti e scatta la protesta nei porti italiani. Bruxelles fa saltare due terzi della produzione del nostro paese. I pescatori di Pescara sono rassegnati, se la pesca strascico sarà vietata finiranno al macero tanti pescherecci, inoltre oltre a questa problematica ci si mettono gli ormai noti bassi fondali che creano secche. Chi vuole ripiegare sulla pesca turismo incontrano un poche difficoltà per i bassi fondali. Doriano Caplone, vicepresidente Associazione Pesca Professionale dedicata al compianto Mimmo Grosso. Un grande timore che è questa visione, questa idea della comunità europea di vedere come la pesca strascico un male da estirpare per la tutela dell'habitat marino, degli ambienti marini. Noi come professionisti e amanti del mare, perché dal mare noi tiriamo fuori la materia prima che ci permette di vivere, garantisco per l'esperienza che non è vero che la pesca strascico è distruttiva, perché se fosse così, visto che la pratichiamo da secoli, non ci sarebbe più niente nel mare, non ci sarebbe più pesce, non ci sarebbe più niente. Invece io ho constato spesso un aumento degli stock nelle mie battute di pesca. C'è necessità, secondo me, di impiegare un corpo di scienziati, biologi marini, per fare uno studio serio della condizione degli stock ittici in Adriatico. Il segretario dell'Associazione Mimmo Grosso, Giacomo Fanesi, spiega. Allora, oggi la preoccupazione principale è la batosta che è arrivata dalla comunità europea per il fermo definitivo della pesca strascico. Pescara è un porto dove il 90% dei pescherecci fanno pesca strascico. Poi c'è la bongolara, ma un palangaro soltanto, quindi figuriamoci, è poco come altro tipo di pesca. Quindi loro, è logico, sono veramente preoccupati di questo, principalmente questo. Il fondale è quello che è e quindi è logico di continuo, sembra in allarme. Il pescato è quello che è, perché in realtà pescano sì, ma il pesce sotto il mercato va poco, se non quasi a nulla, capito? Quindi la mesata per un marinaio è il minimo proprio sindacale, come si dice. Grazie. 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 Grazie.